Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video che inizio vi spiego dove trovare questo genero di guerra Fasti Carià, Grandezza Carià, come volete chiamarla, comunque è sempre un'ottima genero di guerra Dirigetevi qui in questo posto dove avete lo sconfitto, ormai sappiamo già che c'è gente che qua ha sterminato l'oretta e il fantasma dieci volte E dirigetevi qua, entrate in questo buco, mi è uscita male, scendete qua sotto Sì, qua sotto, fate come me, come un vero professionista da parkour Guarda, qua sotto, scendi qua sotto, sconfiggi un paio di vasetti, divertiti un po', comunque lo scopo è sempre scendere giù Intanto io vi spiego a cosa serve questa genero di guerra Questa genero di guerra trasforma la lama in uno spadone magico E poi lo dobbiamo, cioè lo abbassa e può essere anche caricato per aumentare la potenza fino a due livelli Esatto, quindi se tu tieni premuto il tasto per trattenere, cioè per dare potenza alla spada Dopo la attacca il terreno, respingendo così il nemico, capito? È molto letale e ve la consiglio, mi raccomando, applicatele su spade leggeri Armi colossali sono escluse, quindi potenziate la vostra arma semplice E niente, vi accontenterete lo stesso È veramente una bestia, l'ho provata anche, è una bestia Quindi scendete sempre qua sotto Qui ci sono i vasi da sconfiggere se volete Oppure scendete e non li cagate neanche Easy easy Sì, qua sotto Ed eccoci arrivati Ecco, quella è l'entrata Noi dovevamo solamente salire sul tettuccio Beh, sul tetto, eccolo qua Ci buttiamo qua sopra Già Ed eccola qua Fa sti cariani Adesso io vado un attimo ad applicare Questa cenere su una spada semplice Quella del gargoil Uno spadone del gargoil Ok Ci metto i fasti cariani Questa qua Ah, moltissima tre cenere E ci metto un'affinità magia E adesso, come sempre Io vado sempre qua A provare le nuove cenere di guerra Guardate un po' Non è affatto male Può servirvi Quindi ragazzi Se il video vi è stato utilissimo Iscrivetevi al canale Lasciate like Attivate la campanellina E noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao 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 Grazie a tutti.